Questa è una mostra che tenta di fare il punto su un aspetto un pochino diverso del suo lavoro. Non tende tanto a celebrare le grandi icone che pure sono in mostra, ma fa un discorso un po' diverso sulla grafica, sui memorabilia, sul rapporto che c'è anche tra marketing e cultura, tra opera d'arte e società. Eccolo, un vero e proprio genio della pop art ad Arezzo. Le opere di Andy Warhol sono pronte e sabato, ospitata dalla Galleria Comunale di Arte Contemporanea, partirà l'esposizione, che mette insieme pezzi di diverse collezioni private. Saranno quasi tutte opere pittoriche, più di una decina di elementi tra vestiti e serigrafie. Da Warhol in poi si tenta di fare un discorso sull'eternità, nel senso che il sottotitolo della mostra lo racconta, l'idea non è di vivere per sempre, ma di far vivere per sempre qualcosa. E questo qualcosa è l'idea stessa, è l'opera d'arte, è l'immagine, l'immagine dell'opera che diventa però strettamente legata al contesto sociale. Quindi una sociologia estetica che poi conduce a celebrare l'artista stesso, conduce a immortalarlo in una specie di dimensione che appunto lo consacrerà nel futuro, non nel futuro della storia dell'arte, ma nel futuro della società contemporanea. Perciò un pensiero anche filosofico e tra l'altro una chicca alle ricette. Sì, un pensiero filosofico perché Andy Warhol è stato uno sociologo dell'immagine che ha fatto attraverso la grafica tutto un discorso sul vivere contemporaneo. Naturalmente quando dico contemporaneo ci si riferisce alla metà degli anni 50 in America. Il pop art è quel movimento che dall'Inghilterra, con Hamilton per esempio, sbarca in America e diventa subito popolarissimo lì. E non a caso ho usato questo termico, perché il popular è proprio la matrice stessa della società americana dell'epoca. Il consumismo, gli oggetti che non muoiono ma si impossessano addirittura perfino di noi stessi, quindi ci rubano l'anima come pensavano gli indigeni della fotografia. Quindi è un po' questo quello che ha saputo fare Warhol, ma senza meriti, perché lui forse l'ha fatto anche con uno spirito poco critico. In questo senso lui era abbastanza glaciale, lui stesso. Pretendeva di descrivere questo flusso di senso che attraversava tutta la società americana dei suoi anni in maniera acritica. Quindi quasi elogiava a volte questo sistema che determinava il successo delle persone e se ne fregava del consumismo in sé, del problema consumismo. In effetti quella è stata una tematica che è stata raggiunta dopo dal senso comune.